Attorno alle ore 8 di stamane, nella zona tra via Roma, Viale Veneto e Viale Umbria Sottomarina, è stato rubato lo zaino di un operatore ecologico di Veritas che stava svolgendo il proprio servizio. L'oggetto è colore nero e presenta scritte rosse. All'interno erano contenute le chiavi dell'armadietto di lavoro. Chi lo ritrovasse è pregato di contattare direttamente l'operatore al numero 346 05 07 965. Si tratta del secondo odioso caso in pochi giorni. La mattina di mercoledì 18 marzo in Viale Venezia, non distante dal luogo dove è avvenuto il furto stamane, un altro netturbino è stato dirubato di un borsello contenente il portafoglio, i documenti e le chiavi di casa. Il marsupio è stato ritrovato lo stesso pomeriggio dietro la chiesa di San Martino, sempre a Sottomarina, ma dentro c'erano solo le chiavi. Atti di sciacallaggio del genere, sempre da esecrare e da punire, sono oltremodo vigliacchi in giorni di emergenza come questi, quando c'è chi comunque deve recarsi al lavoro nell'interesse della collettività. Sale a 9 il conto dei decessi tra le persone contagiate da coronavirus residenti nel territorio comunale di Chioggia. Venerdì sera all'ospedale di Dolo si è infatti spento Rossano, Bosco e Bozza, settantenne di Sottomarina, la cui la polmonite interstiziale non ha dato scampo. L'uomo lascia la moglie, un fratello e una sorella, oltre ai nipoti. Mercoledì 1 aprile la salma giungerà dal cimitero di Sottomarina per un momento di raccoglimento, strettamente privato, prima della sepoltura. Sempre dall'ospedale di Dolo una buona notizia, è stata dimessa una delle due figlie di Vittorina Tiozzo Brasiola, la donna di 80 anni scomparse lunedì scorso. La signora è tuttora positiva all'ultimo tampone, è in stato di isolamento domiciliare, mentre il suo compagno continua a essere ricoverato all'ospedale di Mirano. Il comiato a Vittoria Tiozzo sarà dato martedì 31 marzo alle ore 9.30, con il raccoglimento all'obitorio dell'ospedale di Chioggia alla presenza autorizzata dei soldi familiari più stretti. A Dolo, così come a Mirano, nelle scorse ore sono morti altri due pazienti colpiti da Covid-19, mentre il numero dei casi positivi nel territorio comunale di Chioggia è passato ieri a 84, secondo le cifre fornite al sindaco Alessandro Ferro da Lustre Serenissima. Tuttavia, nella mattinata odierna sono stati segnalati altri quattro riscontri positivi al tampone, tutti riguardanti persone anziane. Nel frattempo sono arrivate ieri all'aeroporto di Venezia, provenienti da Roma a Fiumicino, 240.000 maschere di protezione individuale, modello FFP2 o FFP3, inviate dalla protezione civile nazionale e destinate agli ospedali del Veneto. La distribuzione dovrebbe essere già cominciata, con la speranza che interessi anche il pronto soccorso di Chioggia, il quale negli ultimi giorni ha visto scarseggiare la propria dotazione riservata ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari. Per quanto riguarda invece la distribuzione delle mascherine regionali stampate da Grafica Veneta, ieri i volontari della protezione civile locale hanno completato la distribuzione nella parte vecchia di Sottomarina e si è spinta di nuovo fino a Chioggia. Nelle prossime ore e giorni dovrebbe aver luogo nei comparti di Sottomarina e a Borgo San Giovanni. Buongiorno a tutti, anche noi dell'Amico 14 vogliamo aiutare il meglio possibile, abbiamo diminuito anche il prezzo del gasolio, benzina, CPL e metano e speriamo che vada tutto bene. Voi che state fuori a casa, però l'importante è che venite e spingiamo insieme tutto quanto e speriamo che finisca al più presto. Grazie. Oggi è domenica, la città è praticamente deserta, la stragrande maggioranza delle persone e delle famiglie cercano di seguire scrupolosamente il dettaglio del governo che appunto dicono state a casa, osservate il distacco sociale perché solo avendo il minimo possibile di contatti potremmo cercare di temporeggiare e fermare questa epidemia che sta veramente, ha reso praticamente il paese in ginocchio. Tantissime persone stanno facendo questo, ma evidentemente non tutti hanno ancora capito quello che sta succedendo. Vi leggo un attimo una parte di un post che ha pubblicato la signora Michela Tiozzo, che è quella signora che ha perso la mamma, la mamma Vittorina qualche giorno fa e ha anche il compagno in rianemazione tuttora e questa scrive, l'ha scritto poco fa, ieri ritornando a casa dall'ospedale alle ore 12 pensavo di trovare la città deserta, invece era piena di gente in giro, molti senza mascherina, chiudete gli occhi e immaginatevi un lutto improvviso di un vostro familiare, un altro intubato e dieci interminabili giorni sul letto di un ospedale senza tv, senza un libro da leggere, senza nessuno che vi possa portare conforto, in mezzo a persone più ammalate di voi. A dire poi poco rispetto verso tutti quelli che stanno operando per assicurare i servizi, i medici, gli infermieri, le operatrici dell'istituto di riposo, tutta questa gente che sta lavorando per noi e rischiano per noi, oggi una famiglia di Chioggia ha pensato bene di festeggiare il compleanno tutti insieme in pratica, quindi i figli sono andati a trovare la madre, credo anche con ipotesi, adesso non ho la sicurezza, ma comunque sono andati a trovare la madre e non solo, hanno anche postato un video sul loro profilo, sul profilo di una di queste signore, ha postato il video addirittura in diretta, così che tutti lo potessero vedere e quando qualcuno ha detto, scusa ma cosa stai facendo? Questa qua ha detto ma io, a casa mia, posso fare quello che voglio. Speriamo che qualcuno abbia avvisato i carabinieri. Secchio Giotti, uomini e donne di tutta l'età, sono stati sanzionati nelle ultime 48 ore dalla polizia locale in quanto scoperti a muoversi di casa senza alcuna valida giustificazione di lavoro, spesa per beni di prima necessità o esigenze mediche. A tutti è stata contestata la violazione del decreto presidenziale numero 19 del 25 marzo scorso che prevede il pagamento di un'ammenda variabile tra 400 e 3000 euro per l'infrazione dei precetti di pubblica autorità. Gli agenti della polizia locale di Chioggia, anche oggi dislocati lungo il territorio assieme alle altre forze dell'ordine, non allenteranno la vigilanza per far rispettare i dirietti atti a limitare il contagio. Ai cittadini è richiesto anche di prestare attenzione alle tante truffe che sciacalli senza scruppo li mettono in atto, approfittando della situazione. In alcune città italiane infatti è comparso un avviso dalle sembianze sedicenti ufficiali del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che invita chi non risiede in un immobile a lasciarlo documenti alla mano, minacciando sanzioni pecuniarie e penali. La circostanza è paresemente falsa ed è stata smascherata, per cui è doveroso restare in guardia e respingere simili avvisi, chiedendo informazioni ai comandi delle forze dell'ordine e avvisandole di eventuali episodi anomali. Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha diramato un nuovo decreto, con effetti sull'economia, stanziati 4 miliardi e 300 milioni per i comuni, oltre a 400 milioni vincolati al loro utilizzo per fini alimentari attraverso buoni spesa. Conte ha specificato che la chiusura delle scuole fino al 3 aprile sarà prorogata e così le misure di lockdown su tutto il territorio nazionale, inizialmente pensate fino a tale data. A Velli di Chioggia non si smorzi intanto la polemica online tra l'amministrazione 5 Stelle, l'Ulstre Serenissima e la Regione Veneto, riguardo i tamponi di massa richiesti dai consiglieri di maggioranza e il focus sui comportamenti individuali acceso dai sanitari. Un appello all'unità viene da Giuliano Fiorindo, Presidente del Comitato Civico e membro della Consulta delle Frazioni, dal suo letto di ospedale ad Orio, dove è ricoverato assieme alla moglie. «Non litighiamo per colpa di uno dell'altro», scrive Fiorindo. «In questo momento difficile ci troviamo tutti nella stessa barca alla deriva. Speriamo che il tunnel inizia a essere illuminato». Questa mattina, dalla Chiesa di Valli, la messa ufficiata a porte chiuse da Don Simone Bottini è stata trasmessa in streaming dal suo stesso profilo Facebook. Nell'Omelia il sacerdote ha ricordato le quattro vittime della frazione e i numerosi contagiati, oltre a un pensiero per Don Massimo Fasoleo, il parroco di Valli e di Conche, che sta combattendo ora contro un batterio resistente al Policlinico di Padova, dopo che l'ultimo tampone lo ha riscontrato negativo al Covid-19. Anche nella Chiesa di Santa Caterina in Chioggia, la messa a porte chiusa del Vescovo Adriano Tessaroglio e del Collegio Sacerdotale è stata trasmessa in diretta online dagli account della Diocesi. Sono almeno una quarantina ai negozi e le attività economiche di Chioggia, sottomarine delle frazioni, che in questi giorni e settimane consegnano a domicilio i propri prodotti, si tratti di generi alimentari o servizi o prestazioni d'opera. Chioggia Azzurra le sta censendo attraverso un apposito post nel proprio blog, in costante e continuo aggiornamento, alimentato dalle segnalazioni degli stessi gestori. Un modo per aiutare i titolari nel proseguire con il proprio esercizio e i clienti a non mancare la soddisfazione dei propri bisogni, nonostante le difficoltà. Anche ieri mattina, di fronte all'ormai consueto panorama spettrale, le botteghe autorizzate hanno aperto i battenti, alcuni banchi della pescheria, i panifici, le bancarelle di salumi e formaggi lungo Riva Vena e macellerie come quella di Alessandro Dare, il presidente dell'ASCOM, che lancia l'invito a non arrendersi. A chi continua a lavorare come prima chiediamo di farsi vedere, mandando un video all'indirizzo mail chioggiazzurra-gmail.com e diventando così testimonia del fatto che Chioggia va avanti nonostante tutto.